La corazzata di Fabrizio Di Stefano non è riuscita a sfondare il muro del 50%, soglia che serve ad evitare il secondo turno nei comuni sopra i 15.000 abitanti. Anzi, si è fermata molto prima e molto sotto le aspettative della vigilia e del peggiore dei sondaggi. Vero è che il margine che separa il 38,81% del centrodestra dal 21,5% del centrosinistra, guidato da Pietro Diego Ferrara, all'apparenza sembrerebbe più che rassicurante, ma la partita è tutt'altro che chiusa. A Chieti, infatti, la frattura nel centrodestra sembra difficile da rimarginare. Troppi discrezzi, troppe le divergenze tra il gruppo guidato dall'assessore regionale Mauro Febbo, promotore della candidatura di Bruno Di Orio ad un soffio dal ballottaggio, e quello dei partiti ufficiali di centrodestra che portano con loro buona parte degli amministratori uscenti legati a Di Primio. Dunque, il messaggio subliminale lanciato ieri da Di Stefano, che ha evocato l'anima di centrodestra della città, quasi come un amuleto per il secondo turno, potrebbe cadere nel vuoto lasciando in fuga solitaria il candidato leghista. Dovrò confrontare con tutti i miei alleati. È altrettanto evidente che quando dico parleremo alla città, voglio dire che non ci sederemo per trovare accordi di ballottaggio, ma cercheremo di trovare una sintesi nella città, con la città, con gli elettori. Dal canto suo Ferrara potrebbe approfittarne, anche perché è galvanizzato da un risultato quasi isperato ad inizio campagna elettorale. I toni pacati hanno pagato, riuscendo anche a mascherare le divisioni che pure ci sono state, se si pensa ai renziani, che sono fuoriusciti dalla coalizione rossa per appoggiare il progetto civico di Diorio. Una percentuale, quella di Chietiviva, tutt'altro che marginale, con il suo 4,85%, e che potrebbe tornare nell'alveo di sinistra nel caso in cui non ci fossero apparentamenti ufficiali. In più Ferrara potrà contare sull'appoggio degli alleati di governo 5 Stelle, che si sono fermati oltre il 6% e che erano già pronti all'accordo prima del voto. C'è la difficoltà nel parlare con il candidato e collega Diorio e proprio insita in questo. Con chi parliamo? La mia coalizione con chi parla? Parla con Diorio? Parla con Ricci e con Marzoli? Parla con Mauro Febbo? Questa è la difficoltà. Con De Cesare il discorso è aperto da tempo. C'è una specie di trasporto anche affettivo ed emotivo. Ed allora il vero ago della bilancia potrebbe essere proprio rappresentato dal polo civico capeggiato da Paolo De Cesare, forte di un buon risultato in questo primo turno, 12,61%. C'è però da dire che qui convivono anime che si muovono trasversalmente agli schieramenti e quindi nulla è scontato. La strategia, ha annunciato De Cesare, sarà comunque condivisa con tutti i componenti della coalizione. Possiamo anche far tesoro di questa bellissima esperienza e soprattutto dell'ottimo consenso che abbiamo ricevuto, rappresentare e tutelare i cittadini di Chiedi insieme al Consiglio Comunale per quella che sarà la rappresentanza che ci verrà attribuita in base ai voti ottenuti e quindi poi valuteremo, faremo magari una sana opposizione costruttiva oppure faremo parte di una maggioranza che ci vedrà convergenti sui programmi. Adesso insomma è tutto da vedere. Passando all'analisi del voto ai candidati, Di Stefano, al contrario di Ferrara, è stato penalizzato dal voto disgiunto, ben 7 punti in meno rispetto alle sue liste, mentre Ferrara ha messo a segno un più 5 rispetto alla sua coalizione. Dati che ridurrebbero il gap tra i due sfidanti in maniera considerevole e che potrebbero pesare nell'ottica secondo turno. A buon ragione quindi si può immaginare una ripartenza dallo 0 a 0, sostanziale parità che potrebbe essere mossa da alleanze ufficiali e non in queste ore. Infatti i cellulari sono roventi perché la caccia al voto è già ripartita.